Burloni, oggi su Minecraft dovrò provare a salvare questo ragazzuolo qua vicino a me, il signor LocoLokis, da questo cattivone qua, che è Evil Marco. Lui è cattivissimo, è l'unica cosa che vuole fare, è uccidere... dove sei andato, Loco? È una sorta di manhunt vs mansafe, tutto assieme. Loco, io prendo il mio equipaggiamento base e sappi che proverò a salvarti non appena il timer partirà. Allora, la cosa che mi piace è che ho anche un totem per te! Oh perfetto, però non posso tenerlo io, devi tenerlo te qua. No, devo tenerlo io e lanciartelo nei momenti in cui c'è lontano il tizio. È partita! Ok, ok, stai tranquillo, adesso ti do direttamente una Fire Resistance, così si apposta se ti butta nella lava. Vai, ok, ottimissimo, dove è andato? Ci sta seguendo, ci sta seguendo, l'importante è scappare, Loco, l'importante è scappare. Io ti sto vicino, ok, vediamo cosa c'è in questa cesta. Ho dei blocchi, non ha delle Enderpad, ti do dei blocchi appena riesco. Ok, mi sa che lui sta tagliando le strade. Oh mio Dio! Dove sei, Loco? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Tieni qua questi blocchi, tieni qua questi blocchi, ti possono servire. Ci sta tagliando la strada sicuro, ci sta tagliando la strada sicuro. Segui me, segui me, segui me. Non guardarlo. Evil Marco ci ha perso. Evil Marco, siamo d'altra parte, siamo dritti. Senti Evil Marco, ti do una cosa bella, tieni le Enderpad, va, che possono esserti utili. Dove sei andato, Loco? Ti ho perso! Sei un dannato. No, 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 sei dietro a prima o non. Ecco, ti ho visto. Arrivo, 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 arrivo. Dov'è, signore Evil Marco? Oddio, aspetta, aspetta, li do tanto il Master, li do, appena riesce. Aspetta, 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 sono dietro di lui, eh. Io non posso ucciderlo, ti ricordo. Porca miseria. No, no, ti ho preso, ti ho preso! È vicino a te, è vicino a te, è vicino a te, stai attento! Oddio, c'ho pochissima vita, Loco. Loco, c'ho pochissima vita io. Non abbiamo una Regen, ti ricordo. Ma dov'è lui? Ha metto su di me, profeta. No, mi sono andato a me, mi sono andato a me a Regeneration. Eh, cosa? Scusa, oh mio Dio, non sto capace a parlare! Dov'è? È qua. È perso? Sì, gli ho dato tutto il Master, gli ho dato tutto il Master. Perfetto. Ok, ok. Dove siete, Loco? Sei riuscito a scappare, eh? Sono in acqua, sono in acqua. Oh mio Dio. Loco, mi devo dare una Instant Health, scusami. Loco, dammi, dammi, dammi maci. Devi scappare, devi scappare, devi scappare, devi scappare. E avevi detto che non c'è Feverlander, invece ce l'ha. Eh no, glielo ho date io, perché stava... Dove sei? Oh mio Dio! Dall'altra parte, dall'altra parte, Loco! Loco, ti lascio il totem, prendi il totem, prendi il totem. Grazie, grazie, grazie. Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Bloccalo, bloccalo. Ti sto dando un po' di vita. Sei full vita? Sono full, sono full, sono full, tranquillo. Ok, ok, ok. È difficile bloccarlo quando hai due cuori, te lo giuro. E mangia anche te. E non mi sono preso il cibo, non mi sono preso il cibo. Te lo do io, ti devo salvare io, scusa? Ok, sì, salvami tu, salvami tu. Ok, va bene. Aspetta, vediamo se qua c'è del cibo qua dentro. Possibile che non ci sia del cibo? Sì, ho della carne cruda, evviva. Ah, è il Marco, prendi questo, ti è. Guarda che il Marco è cattivo, eh. Sta arrivando, loco, arrivo da te. Loco, dammi il cibo, ti prego, lasciami il cibo dietro. Lasciami il cibo, dove l'hai lasciato? Ma non solo uno. Ah, lo rubacchi è lui, lo rubacchi è lui. Oh mio Dio. Scappo, lo scappo. Oddio, 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 oddio. Oh mio Dio, oddio, loco. Ascolta, ho un'idea, ho un'idea. No, non posso combatterti, io. Quanta vita hai, loco? Eh, 30. Ok, ti ho ridato il coso. Ok, ti ho ridato il coso. Ok, ti ho ridato il coso. Ok, ti ho ribeccato di nuovo con l'arco. È difficilissimo! Loco, con le cobweb, ti prego. Come faccio? Ah, con le cobweb, hai ragione. Ma se invece... No, aspetta, ho un'idea. Devo chiudere te nelle cobweb. Però posso beccarlo io. L'ho beccato, l'ho beccato. L'ho beccato. Allora, loco, stai fermo. Mettiti fermo in un punto, stai lì fermo? Sono fermo, sono fermo. Porca misericordia, vieni giù da me. Veloce, è caduto anche lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Stai lì, mettiti nell'angolo. Vai nell'angolo in fondo, là. Eh sì, ok. Ok, ok. Che brutte idea, che brutte idea. Non ti potrà mai più ucciderlo, sai? Un'idea bruttissima, ma ci sta rompendo. Oh mio Dio, mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Loco, sì. No, ma non c'è la spada, è vero! No, 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 loco. Loco, loco. Mi metti in mezzo. L'acqua sì, ho messo l'acqua. L'ho messa. Dove l'hai messa? Non lo so, sono chiuso l'acqua. Eh, ma loco, mi sa che... Mi sa che loco abbiamo un... Esci, esci da sto posto, loco. È un po' difficile. Esci da sto posto! Sì, ce l'ho fatto! Mamma mia, mamma mia, non ho mai visto una cosa così difficile. Ti devo dare Gen, ok? Tranquillo, tranquillo. Sapi che ogni round avrai una fila di cuori in meno, quindi sarà sempre più difficile. Ok, ti sta avvicinando. È davanti a me! Girati, 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 vieni verso di me. Vieni verso di me. Ok. Grazie. Bravissimo, ti dottore Gen. Perfetto. Ora facciamo così. L'ho chiuso. Bravissimo, bravissimo. L'ho chiuso nelle cobweb. Sei andato via nelle collendere, però, mi sa, eh? Sì, sei andato via a collendere. Ha preso un sacco di danno! Loco, loco, ce la possiamo fare. Loco, ce la possiamo fare. Bravissimo, vieni a me. Si è perso, si è perso, scappa! Lo distraggo io! Mi nascondo, mi nascondo! Lo distraggo! Come cavolo fa a uscire ogni volta? Morta miseria! Diamine! Ok, lui non ti ha visto, eh? Lui non ti ha visto. Ah, yes! Primo round l'abbiamo vinto noi! Loco, abbiamo un problema. Lui adesso ha la spada in diamante e tu hai due file di cuori e non tre. Sarà difficilissimo. Sarà difficilissimo. Ok, loco, ti do già un po' di vita. Ok, buono. La stai togliendo? Come te la stai togliendo? È impossibile. Non è possibile, loco, non è possibile. Aspetta, ho un'idea. Loco, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vale, quale? Il match è qua! Aspetta, dove sei? Fai le resistance? Allora, aspetta. Dove sei? Non ti vedo più, ti ho perso. Mi sta pizzando! Dammi, dammi, dammi! No, vai, 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 dritto, vai, dritto! Vai, 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 vai! Ti dico quando fermarti al pelo, eh! Uno, due, fermati! Buttati nella lava adesso, buttati nella lava. Tattica geniale! Lui non ti potrà più trovare nella lava. Ok, ok. Oh mio Dio, oh mio Dio, ma quanto è forte! Sembra che c'è il forso, il coso! L'ho buttato nella lava per sbaglio, non era mia intenzione, mi dispiace. Non mi troverà più. Ok, ti do vita, eh. Ok, buonissimo. Dov'è il tizio? Non lo so dove sei sbagliato, non io. L'ho salvato. Loco, ho un'idea. Eh? Potrebbe essere il geniale quanto è una cosa stupidissima. Sappilo. Vale. Sei pronto? No, no, mettiti dentro, mettiti dentro la lava! Dentro la lava! Ho capito, ho capito, ho capito cosa vuoi fare. Ci sono, ci sono. Addio, addio signore Evil Marco. E adesso come lo prendi? Ti serve il piccone, devi andare a cercare il piccone nelle ceste. Ah, mi ha basalato la soluzione! No, loco, mi sa che vuole fare un bug. Cosa sta succedendo? Vuole entrare dentro di te con l'Ender Pearl. Oh, mamma mia. Allora, se lui ce la fa... Va a prendersi il piccone, devo stare qui. Aspetta, ho un'idea. Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. Ok, loco, hai pochissimo tempo per fare quello che voglio che tu faccia. Dimmelo, non capisco. Allora, guarda in alto, guarda in alto, guarda in alto. Ok, vai. Stai guardando? No, porca miseria. C'è un altro blocco da spaccare. Loco, potremmo fare un disastro. Loco, potremmo fare un disastro qua. Va bene, va bene, va bene. No, 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 no. Voglio farti uscire. Voglio farti uscire, voglio farti uscire. Ok, tieni qua. Esci, bravissimo. Vai via, vai via, scappa, scappa, scappa. Verso l'Ender. No, è tornato, non ci posso credere. Come è tornato? Porca miseria. È troppo difficile. Burloni, ditemi nei commenti quant'è bella questa nuova modalità. Man Hunt versus Man Save. Non ho l'Ender per Loco. Ho finito il cibo. Loco, vieni verso di me. Vabbè, buongiorno. Dov'è il nostro amicone? Ah, dietro di me. Ti ho buttato tutto. L'hai presa a fare resistance. Le resistance. Mi è tazzuttato il master. Bravissimo. Adesso ho preso. Chiudore Gen. Loco, devi andare. Vado in cima al Mob Spooner. Sì. Loco, devi andare verso... Devi andare verso casa dopo, ti prego. Verso casa dove? Quale casa? Ci sono tante case. Eh, verso casa mia, perché almeno lì c'è... Ok, va bene. Lui, occhio che c'è le Ender perle. Porca miseria. Non so come stopparlo in qualche modo. È una scalata del Mob Spooner. Forse l'ho chiuso. L'ho chiuso? Come è chiuso? Non l'ho chiuso. Madonna, Loco, è un disastro quello che ho fatto. Loco, è un disastro. Sei finito? Loco, hai perso. Loco, non posso venire a salvarti. Loco, sono dentro le mie ragnatele. Non ci posso credere. Loco, non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Dove sei? Sei riuscito a salire? Sto morendo, Marci. No, mi sa che muori. Mi sa che muori. Ho mezzo cuore. Hai mezzo cuore? Ho mezzo cuore. Dove sei? Sono alla città. Vai alla città. Ok, vieni verso di me. Vieni verso di me. Vieni verso di me. Sono al Mob Spooner. Dove sei da fine? Sono alla città. Sono troppo lontano. Ma come sei alla città? Loco. Amma, Marci. Sei morto? Sì. Loco, vai. Ho un'idea. Vai dentro casa mia. Vai dentro casa mia. Veloce. 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 Ho chiuso tutto. Ho chiuso tutto. Vai dentro la mia cosa dell'enchantment. Veloce. Di qua. Di qua. Di qua. Veloce. Veloce. No, è passato. Ho chiuso. Bravissimo. Non è entrato lui. Non sono entrato io, loco. Non ci posso credere. Sei un disastro. Allora, devo cercare di venire in qualche modo sopra. Allora, calma. Come faccio? Dove sei andato adesso tu? C'è un problema. Lui ha una spada in medirite e io ho una fila di cuori. Ok. Come faccio a venire da te adesso? È un problema, lo sai, vero? Cioè, questo è un grande. Sì. Lo so. Ok, loco. Sono giusto a venire a salvare. Dove sei? Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Ti ha perso? Ah, non mi hai visto. Ok, aspetta, aspetta. Vai dall'altra parte. Ti fermo io. Bravo. Lo sto beccando, lo sto beccando. Le vado. Bravissimo. 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 Ora devi scappare. Ora devi scappare. Ora mai più. Dove sei andato? Fuori, fuori. Fai via, vai via, vai via. Fai via. Ti trova così, eh. Ok, loco. Vai su. Vai su. Loco, vai su. Non lo blocchi. Porca miseria, mannaggia te. Tieni qua. Usa la comparsimonia. Non l'ho presa lui. Usa la comparsimonia. Ha presa lui. Sì, 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 sono riuscito a chiuderti. Bravissimo. Porca miseria. No, vai giù. Bravissimo, vai, vai, vai. Chiuditi dietro. Chiudi dietro, veloce. Velocissimo. Chiudi. Ora. Sono caduto. Non ci posso credere. Non ci posso. Io non ci posso credere. Ma come fa bene? Ma non fa bene niente. Ma io come fa... Adesso riaprimi, no? Oggi me l'hai combinata di tutti i colori, veramente. Tu metti a chiudere. Nel tuo punto preferito sto andando. È quel mio punto preferito? Io sono qua che sto spaccando, loco. Sono ancora qui che spaccola trapporto di ferro, loco. Per colpa tua, loco. Dov'è? Dov'è? Dov'è, Vilmarco? Non lo so, non lo so. Ok, sono riuscito a uscire in qualche modo. Però non vedo né te né lui. Questo è un problema. Ma sono in cima alla torre più alta, Marci. Quella torre più alta? È la torre quella sopra casa tua. Ok, ma lui dov'è? Non sa dove sei, vero? Non lo so se sa dove la torre più alte casa tua. È un problema questo, lo sai? Ma Marci, mi vedi? Marci, dietrote, dietrote a lui. Dove sono? Come dietrote? Lì sotto, lì sotto. Non lo vedo. Ok, l'ho visto, l'ho visto. Tu dove sei? È solo in cima, guarda sopra di te. Ok, adesso devi fare una cosa. Hai quella cosa di chi? No, te lo devo ridare, è vero? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Eh no, ma è quello di prima hai Eh sì Tecnicamente non potresti utilizzare quello di prima Tranquillo, tranquillo, va benissimo Oddio, non mi ha visto Non mi ha visto Oddio, oddio Aspetta, sto arrivando, loco Loco, sto arrivando Mi ha buttato giù, mi sono salvato, dove sei? Sono qui sotto, sono qua, maci guiccia Sotto qui Tieni questo Te ne devi andare subito Grazie, grazie Scappa subito Aspetta, sto qua ancora un attimo a vedere dove arriva Ok In questo momento, non lo so Non lo vedo più, non lo vedo più È lì sotto, lì sotto, lì sotto Dov'è? È lì sotto, è salito Buttati Ora o mai più Mi lancio anch'io Yes Ci siamo salvanti, loco Vai via Due a uno siamo Chi vince questa vince tutto, eh Ma siamo uno a uno È uno a uno Se vince questa è due a uno Scusami Vieni qua che ti do qualche pozione Dammi, dammi No, non mi dai No, no, scappa Scappa, scappa Scappa Loco, scappa Loco, scappa Loco, devi scappare più che mai L'ho fermato leggermente L'ho fermato leggermente Non troppo, non troppo però Ma c'è un'idea geniale Vado sull'isola Skyblock Cioè Bedwars Come fai? Penso le tiane E poi le rompo L'ho chiuso, l'ho chiuso L'avevo chiuso Ho visto No, mi ha buttato dalla lava Porca miseria Ok, puoi farcela Ok, lui cade Io muoio, eh Io sono morto Loco, sono morto io Ho lo spawn da un'altra Hai 30 Loco, 30 secondi Loco, 30 secondi Ti prego Posso farcela Sei un king Sei un king Ce la puoi fare Ho sbagliato il gana Stai cadendo? L'acqua, c'è l'acqua Dimmi che ti sei salvato Dimmi che Ti sei salvato Scappa, ora scappa Vieni verso la farm di conigli Ti doi instant health E fai resistance Ciò marci, ciò marci Vai Fai il rest Velocissimo E anche potion of healing Vai Lo arco Vai via, vai via Mannaggia, mannaggia Oddio Lo sto arcando un pochettino con healing Sì 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 Vittoria 2 a 1 È stato un video Incredibile Ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video Fatemi sapere sotto nei commenti Se vi è piaciuta questa tipologia di video Nuova Prossima volta La facciamo In un'altra mappa Ciao a tutti